Daiane Mello ha davvero imprecato nelle ultime ore? Questo è il dubbio che circola su Twitter dopo un video addirittura a rallentatore in cui si sentirebbe la presunta bestemmia. Tuttavia, basta vedere il filmato originale e leggere bene il labiale della modella brasiliana per accorgersi che si tratta di un clamoroso errore. Nessuna bestemmia per Daiane Mello, dunque, ma forse un tentativo mal riuscito di mettere in cattiva luce la ragazza dopo la guerra a suon di voti che si sta scatenando sul web e che secondo molti utenti sarebbero irregolari poiché provenienti dall'estero. Nel filmato in questione si vede Daiane seduta a tavola mentre parla con Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta della Contessa de Blanc. Ad un certo punto si sente il commento del lamello dopo la visione di una foto. Che forte, madonna! Questa esclamazione è stata però scambiata con una bestemmia e c'è chi ha fatto circolare un video in cui si sente solo un audio a quanto pare manomesso con la voce modificata della vippona. C'è chi invece ha compreso che foto, madonna, e questa frase è finita in breve tempo in cima alle tendenze su Twitter. Ecco l'audio. A quanto pare, dunque, la guerra social continua e l'intento, secondo i fan della brasiliana, sarebbe proprio quello di affossarla dopo il presunto scandalo del televoto che ha messo in salvo l'amica Rosalina. Grazie per aver visto il video, iscriviti al canale e lascia un like per supportare il lavoro.